Ciao, sono Miranda e ad agosto partirò per 6 mesi in Canada. Ho scelto di fare questa esperienza perché mi aiuterà soprattutto a sviluppare competenze che nel futuro mi risulteranno molto utili, come la capacità di uscire dalla mia comfort zone e adattarmi in situazioni dove non conosco il luogo e non conosco le persone. Ciao, mi chiamo Alessandro e partirò per un semestre in Canada. Ho deciso di intraprendere questa avventura per diversi motivi, tra i quali quella di conoscere una nuova lingua, cioè quella inglese, di conoscere una nuova cultura molto diversa da quella italiana e soprattutto imparare ad adattarmi in qualsiasi situazione, un'abilità oggi molto richiesta.